Noi adesso siamo riusciti in questo anno ad intercettare molti finanziamenti, molti finanziamenti del PNRR, dei fondi europei, dei fondi di sviluppo e coesione. Adesso bisogna passare rapidamente alla fase esecutiva, sia per quanto riguardi in alcuni casi i progetti, in altri progetti già sono disponibili, ma poi soprattutto per la realizzazione dei lavori. Oltre un miliardo di investimenti con diverse tipologie di finanziamento per più di 50 opere pubbliche già individuate, sono stati pubblicati due accordi quadro che per la prima volta prevedono una forma coordinata degli uffici tecnici che insieme ricorrono a questo strumento coinvolgendo tutti gli assessorati, in quanto si tratta di progetti fortemente integrati. Un approccio metodologico che fa parte della riorganizzazione del lavoro in atto nella macchina comunale. È il caso ad esempio della riqualificazione di Scampia, della passeggiata sul molo San Vincenzo e dell'efficientamento energetico degli edifici istituzionali. Ci sono delle scadenze molto serrate, noi veniamo ad esperienze del passato in cui molti soldi sono stati persi per problemi legati a gare, ai pruri che erano stati fatti nelle progettazioni, quindi a cose molto, diciamo, a una gestione non ottimale dei tempi rispetto a quelle che erano le scadenze dei finanziamenti. L'accordo quadro consente di disporre di un contenitore di aggiudicatari, poiché nella procedura di gara viene fissata la disponibilità dei partecipanti a svolgere lavori o servizi in funzione di finanziamenti già disponibili o attivabili con tempi stretti, permettendo un migliore rispetto dei tempi, oltre a consentire di operare sui finanziamenti già assegnati e su quelli futuri. Abbiamo adottato in questo caso la procedura dell'accordo quadro, che è quella che si sta adottando nelle grandi stazioni appaltanti a livello nazionale, dai vitali ai grandi enti, che consente rapidamente di poter effettuare queste gare, divise in lotti, rispetto alle quali si selezionano poi i soggetti economici che realizzeranno i lavori e che vengono messi in campo progressivamente, che le varie procedure raggiungono le scadenze che debbono avere. Questo velocizzerà moltissimo le procedure di affidamento dei lavori e anche di verifica delle progettazioni e quindi consentirà, come ci auguriamo, di finalmente rispettare i tempi, non perdere finanziamenti e realizzare le opere di cui la città ha bisogno. Grazie a tutti.